Carl Heilmayr, Alba sul lago König, 1860 circa. L'atmosfera è tipica dei dipinti del periodo romantico di metà ottocento. La luce è utilizzata per ricreare la maestosità e grandiosità della natura, di fronte alla quale gli esseri umani sono come rimpiccioliti. Una predilezione per i grandi paesaggi e la loro rappresentazione attraverso l'uso della luce caratterizza molta dell'arte di quel periodo.